Conferenza congiunta di PDL, PID, Grande Sud, MPA e lista musumeci. Partecipa anche i cancelleri, pronti a staccare la spina al governo. Le interviste a Di Mauro e allo stesso cancelleri. Dario Piparo. E tra i due litiganti, come dice il detto, il terzo gode. Sì, perché mentre PD e Megafono continuano un tira e molla, volto a una definizione più stabile dei propri rapporti, l'opposizione comincia a fare la conta e ad alzare la voce in un momento delicatissimo per la stabilità politica della Sicilia. Non solo IRPEF precari, non solo rimpasti in giunta, ma c'è spazio anche per considerazioni più ad ampio raggio. Conferenza stampa a Palazzo dei Normanni con rappresentanti di PDS, Cantiere Popolare, PDL, Grande Sud, lista musumeci e Movimento 5 Stelle. E Giancarlo Cancelleri si è fatto espressione della divergenza dei pentastellati, dimostrando come un tenue ricordo quel modello Sicilia che sembrava lasciar presa a giro una collaborazione stretta tra i vertici governativi e gli uomini di Beppe Grillo. L'idea della conferenza stampa al fine ultimo era quello di chiedere al presidente Crocetta un tavolo di concertazione programmatico per uscire dalla crisi. È un momento veramente difficile per i cittadini siciliani. Se pensiamo di risolverlo con gli slogan governativi, andiamo a sbattere sicuramente. Noi d'altronde siamo convinti che una buona azione di governo deve essere espressione di tutte le forze perché chiunque può dare delle idee innovative. Immagineremmo nel mese di settembre un DDL con cui si ripropone l'eliminazione di tutti gli enti cosiddetti inutili, la riprogrammazione della spesa e una rivisitazione di quello che è il sistema regione siciliana per far fronte alle esigenze che ha manifestato concretamente la Corte dei Conti. Le dichiarazioni lascerebbero filtrare comunque un'apertura nei confronti della presidenza istituire un tavolo tecnico quindi allargare la concertazione ma di fatto l'opposizione sta battendo i pugni intravedendo un ampio margine d'azione dopo il rinvio del DDL antiparentopoli dove la maggioranza ha mostrato tutti i suoi limiti e facendo un po' la conta dei leader presenti in conferenza i deputati deducibili sarebbero 43 compresi i tre componenti facenti parte del gruppo misto e se si stimano anche i tormenti della maggioranza con più di un malcontento più o meno manifesto i numeri per interrompere la legislatura si fanno pericolosamente crescenti ma per far cadere un governo bisognerà tornare alle urne e la storia vale anche per la deputazione quella di una mozione di sfiducia sembra oggettivamente una soluzione davvero remota e anche all'interno dell'opposizione più di uno lo chiamerà atto di responsabilità